L'homotransfobia è tutto quell'insieme di atteggiamenti o sentimenti negativi verso persone che hanno un orientamento sessuale non eterosessuale o un'identità di genere non cisgender. La giornata internazionale contro l'homotransfobia ci consegna una fotografia di un'Italia che ancora ne deve fare, di passi avanti in tema di tolleranza e civiltà. Archie Gay negli ultimi 12 mesi ha censito 126 episodi di odio omotransfobico in Italia riportati dai mass media, la punta dell'iceberg di violenze fisiche ma anche psicologiche. Non è solo aggressione, non è solo violenza fisica ma può essere violenza verbale, psicologica, le battutine, i commenti sui social. Siamo talmente pieni di questi comportamenti che a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. Secondo i dati della FRA, l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, in Italia ancora il 62% di coloro che hanno un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità non mostra gesti di affetto in pubblico. Il 23% subisce discriminazioni sul lavoro, il 30% ha paura di subire aggressioni e soprattutto l'84% non denuncia. Infatti un dato importante è proprio l'underreporting, cioè a volte i numeri sembrano piccoli a livello nazionale perché vengono denunciati poco. Oltre l'80% delle persone che hanno subito aggressioni o discriminazioni non le hanno denunciate alle autorità e quindi questo fa sì che sembri un fenomeno più piccolo di quello che in realtà è. La campagna di Arcighei di quest'anno vuole proprio sottolineare questi dati e sottolineare purtroppo l'inefficienza invece della legislazione italiana che non prevede ancora alcuna tutela né di prevenzione appunto né di punizione per chi commette atti violenti a sfondo o mobitransfobico. Un dato che deve farci riflettere è il fatto che 37 dei 126 episodi riguardano ragazzi e ragazze under 20. Ad Arezzo lo sportello aperto da Arcighei rileva la richiesta di supporto proprio da parte dei genitori. Lo sportello è attivo appunto ogni sabato pomeriggio presso la sede di Arci in via Montanara e sì abbiamo le persone che ci contattano prevalentemente e ultimamente lo fanno per questioni legate all'identità di genere perché probabilmente sono le persone transessuali o in transizione quelle che maggiormente subiscono discriminazioni o comunque hanno difficoltà di inclusione nella società. Molto bello sono molti genitori, ci chiamano ultimamente e non con preoccupazione o comunque non in senso negativo ci contattano per sapere come poter essere d'aiuto ai propri figli e alle proprie figlie e quindi questo è un cambio di passo che ci fa molto ben sperare.